Cosa preferite fare? Meglio questo o quello? Sceglietelo e poi ve lo faremo noi La scelta qual è? Non lo so! Cosa preferite fare? Meglio questo o quello? E forse è meglio ballare? E forse è meglio ballare? Poi ditelo e poi ve lo faremo noi La scelta qual è? Non lo so! Cos'è meglio per voi? Grazie a tutti!